ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi giornata in kayak siamo alla ricerca di qualche bus speriamo che siano in giro a caccia e abbiamo voglia di mangiare inizieremo con un jig e poi magari cambiamo e mettiamo su un crank per vedere se almeno con quello riusciamo a prendere qualcosa e scappottare io come sempre ti ricordo di lasciare un bel like iscriverti al canale e accendere la campanellina in modo tale da rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che usciranno e adesso andiamo let's go e ragazze iniziamo zig montato con un mezzo gambero mi manca qualche un pezzo di chela però lo proviamo così che magari da comunque qualche risultato vediamo se almeno questa volta in questo lago riusciamo a prendere qualcosa se qualche bassa voglia di venire fuori ad aggredire ok 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 vediamo se sotto il puntile c'è qualcosa speriamo se sotto il puntile no ok 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 Grazie a tutti. Sì, ragazzi, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, vediamo se riusciamo a tenerlo. Piccolino, niente di che, però ce l'abbiamo. Il nostro primo bus, eccolo, il crank ha colpito, adesso lo liberiamo. Eccolo qua, stop, come on, come on, finalmente uno, finalmente uno. Eccolo qua, ragazzi, bellissimo, e adesso lo lasciamo andare. Ciao bello, alla prossima. Finalmente, finalmente, se riuscite a prenderne uno, adesso vediamo se magari ne prendiamo un altro. Il crank ha colpito. Non stavo filmando perché era un po' che non avevamo più una mangiata, cioè, è da quando abbiamo iniziato questa qua è la prima mangiata che abbiamo sentito, quindi avevo la telecamera completamente spenta. Vediamo se adesso riesco a farvi vedere una mangiata. Questa è un po' che non avevamo più una mangiata. No! Uuuuh! Sbagliato! Ragazzi, mi sa che era un big aspio questo. Probabilità di ganciare un aspio, un siluro e un luccio altissime. Allora, da com'era mi sembrava un aspio. Speriamo che era lui perché, speriamoci loro, ci portava in giro. Però la mangiatina non è stata forte, boh! Ma stia dovuta trovare un altro problema! c'è 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 ragazzi boom numero 2 come on come on numero 2 dai sei calmo come on ragazzi preso adesso come prima eccolo qua lo lasciamo andare lo rilasciamo subito ciao bello alla prossima come on ragazzi numero 2 vediamo se ne prendiamo un altro subito prima che si scarichi la gopro numero 2 numero 2 finalmente col solito crank quanto pare non delude avevamo avuto già prima un mezzo attacco ma non ne aveva riusciti a tenerlo invece questo abbiamo visto lì così che c'è una pianta sommersa abbastanza staccato dalla riva abbiamo deciso di passarci vicino come avete visto e come siamo passati sopra la pianta uscito subito probabilmente era già fuori a cazza e ci è andata benissimo ragazzi persico pure persico dentro l'amato all'ultimo vieni qua quello qua ragazzi pure il persichello abbiamo preso eccolo bellissimo top top ragazzi anche il persico e adesso lo lasciamo andare bye ciao top ragazzi e anche il persichello fatto vediamo che magari adesso riesco a farvi vedere magari la mangiata vediamo che stiamo tenendo il acceso il meno possibile la gopro anche perché abbiamo quasi finito la batteria quindi la accendiamo solo se riusciamo a fare una cattura adesso provo a tenerla accesa un pochino poco poco e vediamo top direi finalmente siamo riusciti a scapottare in questo lago era un bel po di tempo che venivamo ma non siamo mai riusciti a prendere niente ci sono stati questi due bus fortuna e questo persico ideale peccato per quel pesio che veniva se abbiamo sbagliato se era un siluro va bene così non volevamo avere a che fare per niente con lui in questo momento quindi io spero che questo video in qualche modo vi sia piaciuto e come sempre ti ricordo di lasciare un bel like iscriverti al canale e accendere la campanellina e noi ci vediamo in un prossimo video ciao